Se da un lato Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, nonché presidente della provincia di Taranto, si gonfia come un pavone, parlando, ovviamente raccontando favole, chiacchiere, di rinascita di Taranto, si vanta che la sua è un'amministrazione che sta seminando la rinascita, i dati del Sole 24 ore sulla qualità della vita dei giovani pongono la nostra città agli ultimissimi posti nell'apposita, nella specifica classifica. Taranto e la sua provincia sono al 107 posto. Caro Melucci, tu sei il sindaco della città capofila, ma questa rinascita la vedi solo tu? Ma non ti rendi conto che i giovani in questa città, la cui amministrazione da te gestita offre poco o nulla, proprio questa gestione costringe i giovani ad andare via, ad emigrare e quelli invece che vivono, che continuano a insistere, a vivere, continuano la loro esistenza sul territorio, ovviamente vivono una vita distenti, una vita misera per quanto riguarda il tenore di vita, ma anche le possibilità di crescita, di sviluppo, di futuro in una sola parola. Innanzitutto con riferimento all'aspetto occupazionale. Taranto si sta desertificando, caro Melucci, sta perdendo abitanti di anno in anno. Questa nell'arco di 10 anni diventerà una città di 120 mila abitanti, ma voglio analizzare i dati, come dire, disaggregati per farvi capire il tonfo che c'è per i giovani. Per quanto riguarda la disoccupazione giovanile siamo al 102esimo posto. Soddisfazione per il proprio lavoro, quindi un discorso, un dato correlato, 107esimo posto. Giovani che ne lavorano e ne studiano, 106esimo posto. Amministratori comunali, non c'è spazio per amministratori comunali giovani. Siamo infatti all'ottantesimo posto. E così in una città povera non c'è neanche la possibilità di studiare e di laurearsi. Per quanto riguarda i laureati giovani, siamo al 99esimo posto. Un quadro, caro Melucci, a fosche tinte, rispetto al quale tu non puoi, come dire, sentarti da responsabilità, perché tu hai amministrato questa città per cinque anni, da un anno sei ritornato in sella e sei peraltro presidente della provincia. Tu hai piegato la testa dinanzi al governo, pieghi politicamente la testa dinanzi a Emiliano e alla regione Puglia e tu fai sì che questa città sia la cenerentola di Puglia, perché è ovvio che poi la qualità della vita per i giovani ristagni agli ultimi posti. Tu cosa hai fatto per l'aeroporto, per far sì che vi possano essere i voli civili, i voli passeggeri da Grottaglie? Nulla. Hai detto tanto c'è Brindisi e c'è Bari, non è necessario che vi sia un altro aeroporto. Cosa hai fatto tu per l'università, per l'autonomia universitaria? Poco o nulla. Qualche facoltà, Taranto, una medicina assolutamente incompleta, ma sempre schiavi di Bari, sì perché lo sappiamo che il tuo padrone, tra virgolette, politico è Emiliano e non puoi andare contro papà Emiliano. Tutta questa serie di scelte, di costruzioni, tra virgolette, comporta un inferno per i giovani. Cosa hai fatto, caro Melucci, per l'ILVA? Soltanto ordinanze a vuoto, io le definisco farlocche, che non sono mai state, non sono ordinanze di chiusura. È ovvio che una città che dà grossi problemi, che registra stragi dal punto di vista ambientale, costringe i giovani anche ad andare via. Bene, vi ho elencato così solo alcuni degli aspetti per i quali Taranto, considerando la qualità della vita dei giovani, è al centosettesimo posto nella classifica del sole 24 ore. Un dato inquietante, ma purtroppo assolutamente veritiero. E ho voluto fare questo servizio, registrarlo proprio qui, dinanzi alla stazione, perché la stazione è il simbolo un po' di questi giovani che partono, che vanno via per tentare il futuro altrove e a Taranto ci ritorneranno, sì e no, a Natale e a Pasqua per andare a trovare i propri familiari.